Grazie a tutti. Come mai quest'artista? Quali sono le affinità? È un artista che intanto celebriamo nel 2010, 50 anni dalla sua scomparsa. È morto prematuramente nel 3 febbraio 1960, al momento culminante, in una carriera pluriventennale, insomma più di 20 anni, 25 anni che suonava ed era un vero musicista. Il fatto che sia stata l'apertura del MEI è proprio per far capire che i musicisti veri, non quelli costruiti a tavolino, meglio quelli di plastica attraverso reality show o cose del genere, si formano sul palco. È chiaro che è difficile avere possibilità di suonare soprattutto all'inizio, però lui è iniziato facendo un po' come si dice delle cover, diciamo così, faceva un trattenimento nei locali da ballo, nelle ballere, nel club soprattutto, ho conosciuto la sua futura moglie, questa Fatima Robbins, questa marocchina nel Marocco, allora pensa una cosa stranissima. Faceva la contorsionista, una storia bellissima nella storia. Comunque vabbè, per farla breve, un personaggio, un vero musicista che ha inventato negli anni del dopoguerra, insieme a Leo Chios, il suo paroliere preferito e amico, un personaggio un po' strano, stramparato, un gangster de noantri, come si suol dire. Quindi il successo arrivò proprio facendo le canzoni nuove, importando appunto dall'America questo swing molto divertente e con questi testi improbabili, questo criminale, questo capobanda e tutti quanti in orchestra erano vestiti appunto come dei gangster e ebbe un successo incredibile. Un successo che è nato attraverso l'incontro con un grande amico suo, che era Gino Latilla, che era un famoso cantante dell'epoca, che è proprio commosso dalla bravura di Fred e dalla simpatia di queste canzoni, promosse, lui che era una star di quegli anni, Gianni Morandi per intenderci degli anni 50, alla Fonit, scusi, alla Cetra, si chiamava così, la Caccia Scografica di Milano e il suo lavoro per fare dei dischi, per incidere dei dischi. I dissero, quando sentirono queste cose, loro che venivano a musica quella degli Usignoli, allora, insomma, rimase che non ridite, cos'è questa roba? Diceva, allora, quanto costa fare un disco? Disse la cifra, diceva, vabbè, allora ne ordino un 2000, ne stampiamo un 2000, li pago io. Gino Latilla pagò il primo disco di Fred Buscaglione. E questi dischi però venivano venduti, come succede adesso ai ragazzi che suonano nei vari locali, alla fine della serata. C'era un successo, la gente impazzia di questa musica nuova e stranissima, però il grande pubblico ancora non lo sapeva che c'era questa musica nuova, se non quelli che andavano nei locali da ballo. E il successo passò attraverso un altro incontro fortunato. E una volta il successo, dicevo, passava attraverso la radio, la televisione nei primi anni, quindi ancora pochissimi andavano in televisione a cantare, e i jukebox. E era un fenomeno di quegli anni, il fatto che tu potevi andare dentro qualsiasi locale, mettere la monetina, scegliere il disco. Allora questo venditore, anzi era un proprietario di jukebox e noleggiava i vari locali, ne aveva 700, prese tra Fred Buscaglione e Latilla questi primi 700 dischi. E lì si vide veramente che cosa sceglieva la gente. La gente continuava a scegliere i dischi di Fred Buscaglione. E da lì arrivò successo attraverso poi la radio, e vendette fu il primo artista in Italia a vendere un milione di copie. Meglio, 980.000 copie con Che Bambola, un vero indipendente fatto da sé. Quindi uno spettacolo, diciamo, un omaggio a questo grande musicista, che fra l'altro ha avuto un buon successo, l'altra sera. Però tu prima citavi anche Morandi, hai avuto anche tante collaborazioni importanti con i nostri musicisti. Vuoi raccontarci un po' il tuo percorso professionale? Io mi diverto molto a venire qua al May, io sono stato uno dei primi a venire al May, e ho suonato qua in diverse occasioni, ho vinto un premi, il 2006 anche un premio per il miglior sito. E quando si vede di stand adesso tutti mi corrono addosso, perché penso che io per la mia età veneranda sia un produttore, qualcosa del genere, non uno che chiede ma che offre, in realtà sono ancora uno che offre le mie canzoni. Sì, sono più di 24 anni che scrivo canzoni, ho scritto tante canzoni, alcune di successo, altre un po' meno. Ho avuto collaborazioni nel settore musica per bambini, ho fatto sighe per televisione, ho lavorato nella musica lirica, un'opera lirica di un maestro Biscarini, che si chiama La famosa invasione dei gocci in Sicilia, che forse quest'anno riuscirà a attraversare l'oceano e andare in Brasile per un'altra presentazione. E il successo più importante per lui sono quello di Badai Lampone, di Gianni Morandi, che per me è la più grande soddisfazione dal punto di vista autorale, perché mi ha dato la possibilità nel settore degli addetti ai lavori di essere conosciuto come uno che scrive delle cose abbastanza originali. E già questo è un bel risultato. Sicuramente. Senti, porterai in giro il tuo spettacolo in Fred Buscaglione, dove raccontiamo un po' gli appuntamenti. Sì, siamo la prossima settimana, anzi due settimane andiamo in Svizzera a Campione d'Italia e lì farò una serata, anzi pomeriggio, due spettacoli, uno dedicato a Fred Buscaglione e uno dedicato a Giorgio Gabber, che interpreto dal 2001, insomma, adesso sempre meno, perché mi sono più concentrato sulle mie canzoni e su quelle di Fred Buscaglione, però intanto me lo richiedono, io ho una nuova band e faccio questa cosa. E poi torniamo, beh, in Emilia Romagna, sì, abbiamo, beh, sul sito franzcamp.it sono tutte le date. Torneremo a Bologna in particolare con tre date di seguito al 18-20 febbraio, al Deon, Teatro Deon, sempre con Buscaglione, però prima il venerdì 17 dicembre c'è un grande concerto a Bologna, a Teatro Perla, un concerto spettacolo, una serata anti-sfortuna, anti-sfiga come si dice a Bologna, insomma, una cosa divertente, invitiamo tutto il pubblico a venire, che è una cosa originale, raccontiamo in musica la storia della sfortuna e come la sfortuna delle volte invece di si trasformare in una cosa di positivo e porti anche del bene, delle volte, e invitiamo il pubblico a venire e alla cassa se si presenta si pagano, scusate, venerdì 17 ovviamente la serata, si pagano 17 euro, però mostrando il proprio amuleto preferito, 13 euro si cala ancora. Così facciamo anche un'indagine sugli amuleti. Esattamente, e premieremo i più belli, ci sono dei patte, alcuni negozi di Bologna che hanno con entusiasmo sposato questa cosa e regaleremo a quelli che hanno i amuleti più originali una cosa, un premio che sono dei buoni, diverse cose, anche viaggi no, ma qualcosa di carino, anche economicamente interessante. Senti, dall'interno, visto che sono tanti anni tu che fai questo lavoro e conosci anche molti ragazzi, molti giovani, secondo te c'è fermento musicale nella nostra regione, c'è un buon tessuto che sta crescendo? Giovani? Sì, sì, no, ma senza altro. Devo dire che c'è un problema di fondo che tutti conosciamo, che in Europa c'è una rivista che si chiama un libro, Musica e Lavoro, detto da Giunti nel 2007, che racconta un po' quali sono i percentuali e la situazione in Europa della musica, citando dei dati, dei sondaggi, delle ricerche, solo il 10% dei musicisti in Europa vive del proprio mestiere, quindi questo è già un dato di fatto. In Italia siamo ancora a meno, poi sappiamo come affrontano il tema della cultura, sappiamo anche la difficoltà per la musica popolare di imporsi, perché quando si parla di cultura e di musica, si pensa a musica classica, a lirica, si spendono tanti soldi per mantenere anche dei carrozzoni, che sono certi stati stabili, che potrebbero esserti anche meglio, ma questa è una polemica un po' infruttuosa. Quello che conta è che gli spazi per chi vuole fare musica e vivere di musica sono molto ristretti, invece il desiderio e la voglia di farla a parte dei giovani è altissima. Io parlo di Bologna, che è una realtà che conosco molto bene, calcolando che poi che è la sede dell'università, una delle più grandi d'Italia, con 90.000 circa studenti, c'è un consumo di musica e una produzione musicale enorme. Il percorso però per riuscire a lavorare, a fare anche, se non lavorare, a proporre le proprie canzoni originali, è tutto in salita. Mancano delle strutture, mancano degli aiuti dal punto di vista del pubblico, che in questo periodo di crisi si ritrae sempre di più da qualsiasi tipo di investimento. Quindi ci sono a Bologna, per esempio, una trentina di locali che offrono musica dal vivo, cioè offrono dei palchi in cambio del fatto che tu porti il pubblico e quindi si può mescere più birra e vendere più panini. In realtà è strano che siano dei privati e quindi dei commercianti a offrire visibilità a dei gruppi e non il pubblico. Per questo abbiamo proposto, io con altri amici, insomma la realizzazione a Bologna, come proposta per il prossimo sindaco, speriamo che prenda in considerazione questo progetto, una casa della musica. Un luogo centrale a Bologna, dove si possa in qualche modo utilizzare come una specie di palestra, mescolando l'esperienza di chi è già avuto successo o comunque vive di musica in modo decente e con quelli che sono appunti giovani che vogliono proporsi. Un palco per misurarsi appunto con dei progetti nuovi e non far soltanto delle cover. E quindi attorno a questo palco... Una cucina di idee nuova per la musica. Esattamente. E attorno al palco per mantenersi insomma una serie di strutture e servizi, come sale di distrazioni, centro di formazione musicale, negozi che vendono biglietti, che vendono libri, che vendono gadget. Questa realtà che si vede qua al May, che se avesse la possibilità di affittare uno spazio, in uno spazio appunto dove c'è un ristorante, un bar, dove stavano i muicisti, dove ogni sera ci sono delle musiche diverse, è chiaro che avrebbero interesse con quei soldi di gestire il lavoro di quelli che devono appunto garantire questa possibilità di intercambiare con degli spettacoli diversi e promuovere gli spettacoli dei ragazzi e il posto originale in giro per l'Italia e per il mondo. Perché quello che manca altro oltre il palco, per i ragazzi, per chi fa il muicista, è un sistema che possa far girare queste produzioni originali e quello è un segno appunto importante di un cambiamento che noi auspichiamo alla prossima giunta comunale di Bologna. Lo auspichiamo anche noi come Radio Emilia Romagna e magazzini sonori. Ricordiamo che la regione per promuovere i giovani artisti ha questo concorso La musica libera, libera la musica. Ancora mancano pochi giorni alle conclusioni, il 6 dicembre si chiudono le iscrizioni. È un'opportunità che speriamo che anche i presenti qui al MEI possano accogliere i giovani musicisti, artisti, per avere una vetrina in più, un palco e anche un CD, una pubblicazione dei loro brani. Grazie Franz. Grazie a voi.